Un dicembre con aria poco pulita a Battipaglia lo rivela il report del progetto Save Break Battipaglia, coordinato dagli esperti della Saints Square e supportato dal Rotaly Club preseduto da Giorgio Scala. 16 giorni di sforamento grazie alle tre centraline installate a Viale Danimarca, a Via Parmenide e a Via Iemma. Il focolaio delle polveri sottili in Via Rosa Iemma con quelle del diametro più piccolo, che più facilmente si insinuano nell'organismo umano, la centralina ha registrato 14 giorni di sforamento. In Via Parmenide i giorni di sforamento delle polveri sottili sono 9. I dati migliori dalla situazione di Viale Danimarca, la più vicina alla zona industriale, 5 giorni di sforamento. Sfori che potrebbero essere dovuti all'aumento del traffico veicolare, dovuto ai maggiori spostamenti durante i giorni di shopping natalizio e dalla diminuzione delle temperature con l'aumento della quantità di stufe, camini e riscaldamenti domestici accesi per più ore al giorno. Eppure gli sforamenti nelle ore notturne si sono registrate fin dall'inizio delle rivelazioni. Per questo si potrebbe pensare ad una causa diversa da quella dei riscaldamenti ed indipendente dalla stagione. Pertanto si attendono i nuovi dati di rilevazione.